Proseguiamo, abbiamo infatti un collegamento sul, perdonatemi, sul maltempo sempre, ma ci colleghiamo con Pisticci dove si registrano danni per le colture. A voi la linea. Sì, eccoci, prendiamo la linea da Piazza Elettra a Marconia dove ancora una volta il Comitato Difendiamo le Terre Ioniche è costretto a tornare in piazza dopo la terribile alluvione che il 7 ottobre scorso ha provocato al confine tra Puglia e Basilicata anche quattro morti orte a decine di milioni di euro di danni. Una lunga giornata di protesta che partirà proprio da questa piazza tra poco più di un'ora e che vedrà una continuazione in Puglia, Ginosa, da dove partirà un altro corteo. I due cortei si incontreranno a metà strada per poi marciare insieme lentamente sulla superstrada 106 Ionica per arrivare fino a Metaponto dove è in programma una grande assemblea popolare. Quali sono le richieste degli alluvionati di Puglia e Basilicata? Lo chiediamo al portavoce del Movimento Terre Ioniche, Gianni Fabri. Prima di tutto una grande opera di messa in sicurezza del territorio che renda compatibili le condizioni di vita e gli investimenti in questo territorio e crei lavoro e occupazione. Poi nel merito serve chiudere ancora l'avvertenza del 2011, ancora mille problemi aperti, pochi spicci arrivati a fronte di 550 milioni di euro di danni fra Puglia e Basilicata. Serve soprattutto aprire una stagione nuova per questa nuova alluvione, ordinanze immediatamente, soldi certi e risarcimento per le attività economiche e le famiglie che hanno avuto i danni. Una lunga giornata di protesta che la TGR ovviamente seguirà in diretta con le sue telecamere. Per il momento da Pisticcia è tutto, la linea torna a voi.